Il nuovo Papa non è ancora stato eletto, ma la veste che indosserà è già pronta ed esposta in vetrina. Tre versioni dello stesso abito, di misure diverse, esposte in vetrina dalla storica sartoria per ecclesiastici Gammarelli nel cuore di Roma alle spalle del Pantheon. Per confeccionare i tre capi hanno lavorato dalle tre alle otto persone. A descriverli è Lorenzo Gammarelli. Sono tre vesti di lana bianca e una mozzetta di velluto rosso col bordo di pelliccia bianca. Poi ci sono le scarpe rosse, la papalina e la fascia. Per realizzare una delle vesti servono circa tre giorni e mezzo. In vetrina è esposto l'abbigliamento completo che sarà consegnato in Vaticano prima che inizi il conclave.